oh madonna oh va là va ma vieni addosso ma io ce sto là se tu ma come ce stai mettendo le coste ma buongiorno ma sei tu se ma buongiorno vattene porca ma buongiorno buongiorno sta cazzo buongiorno ma buona domenica si si e tu mi vieni addosso sto sul lettino con te fa il pennino ma via ma stronzo 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 no sei uno stronzo ma perché vattene buongiorno vattene porca ma buongiorno ma buongiorno buongiorno sta cazzo buongiorno ma buona domenica si si e tu mi vieni addosso ma a pallette come sei ma senti le pallette mannaggia il crocistrano ma come senti queste pallette vattene queste pallette che ci sono rimaste va via ma ascolta adesso io vo via però voglio capire per bene dove devo andare affanculo dai alzate che c'è da fa ah che seppia no no vattene no no dai che tocca fa un sacco le cosine oggi ma non la fai niente eh nonna marina coccodrilli questa mattina mi sono svegliato presto sono già bello pimpante ho fatto allenamento con buddy fit buddy fit buddy fit è un'applicazione che potete scaricare scaricare sul vostro telefono smart phone dopo t'alleni con buddy fit t'alleni con buddy fit anche nonno faustino con buddy fit incredibile mamma mia porco cani dobbiamo fare ci sono inelles a roma dobbiamo fare ciò si fa la barba mamma coccodrilli che cosa hai se non io ho metto eh se non io ho metto almeno è un uomo perchè io devo diventare donne se non io ho metto eh guarda quanto sei bello Mette un po' di lacca, mette un po' di lacca, o no? Nonno! Oh, buon Natale! Ma vaffanculo, tu che è Natale? Dai, dai! Ma non ne so! Dov'era, là sotto! Eh beh, da sotto! Dimmi dov'è! Ma non ne so! Dimmelo là! Dimmi lo sta il babbo Natale! Si! Oh! No! Sta in Irlanda! Dimmi dov'è il babbo Natale! In Irlanda! Dimmi dov'è! Ne dici o no? No! Perché? Perché non ne so! Secondo voi dice la verità? Volete una cosa, quando cercate una cosa e ve lo mettete qua in testa, se pensavano che io il babbo Natale non lo ritrovavo e che non ritrovavo nemmeno la spina che me l'hanno nascosta! Scusi! Vai babbo Drillo! Riprenditi quello che è tuo! Il palcoscenico che ti meriti! Vai, vai! Vai, gonfia! Che spetta! Avancia quanto tanto è bello! Avancia stasera tutto bello ma... Hanno detto che eri alto due metri e trenta e sei più basso di me, anche col cappello, io ti tengo lo stesso! Per me sei importante! Perché mi hai preso in giro? Ma che cazzo ne so io! Perché mi hai preso in giro? Chi ti ho preso in giro? Eh? Oh! O no? No! E levati di coglione! Perché mi hai preso in giro? Mannaggia che risposto! No! Perché mi hai preso in giro? Ma hanno preso in giro! Chi ce l'ha messo il babbo Natale di lì? Ma io non ne so neanche dove sta! No! Già sta fuori l'ho rigonfiato! Beh è meglio! Sei contento? No! Perché? Perché no! Perché è una bucciottata! Chi la pensa come me? Com'era babbo Natale? Molto bellino! Molto bellino! Quindi deve stare fuori vero? Eh! Che lui saluta la gente! Eh certo! Vede la figa! Eh si ferma! Eh si ferma! Vede la figa! È quella! Tu ho detto! Guarda chi c'è o no? E' un babbo! Eh? Come te! Eh? Oh no! Nonno! Ma che cazzo vuoi? Hai visto chi c'è? Si! Che un babbo! Eh? Che quello sto stronzo come te! Eh! Levate qui! No! Lascelo fai! Ma tu non ci entri perché mangia troppo! Beh va bene! Che hai mangiato? Un pardo coglione! E poi? E poi non è uguale! E dopo? E dopo! Tira su questa sbagliera che io non vengo a dormire! Dai! Monta! Tira su! Ma che? La spalliera! Che è la spalliera? Oh! No! Ah! Sta pieno! Ma sta pieno che? Il fiume! Il tescio! Vedi? Mamma mia! Sta pieno veramente! Guarda! Si è incavolato! Guarda che lavoro! Ragazzi sta pieno è per tutto! Per tutto! Sta pieno anche il fiume! Guarda! Dai! Ma non ci vedo bene! Non lo vedo bene! Ma sei contento che ha fatto il rosso! Ma non lo vedo bene! Adesso senti qui! Ci stiamo due giorni! Non lo vedo bene! Ma cammina! Cammina! Guarda la tavoletta! E non guarda il semaforo! Eh! Oh no! Eh! Beh! Lo ti ho portato! Stop! Bah! Ah! Eh! Che tipo! A parte le gag con il nonno è sempre importante andare a trovare i propri cari! E eh! Ricordarli! Quando potete! Andate! Perché è una cosa veramente veramente bella! Eccola! Si già! Tanto è bello! Eh! Ho portato! Oh no! Ma dove hai portato? Dove? Tu! Guarda se passa il treno! Eh! Guarda se passa! Guarda se passa la figa! No! Un pelo lungo lungo ma lungo! Ma! Dai! In cammina! E che cosa fa? Oh! Ma è alle 1! Muoviti! Adesso hai fatto i scappacolli? Fermati che ti hai girato! E ti hai girato qui! Cosa stanno questi frulloni? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Non è caldo dai! Ma smorzzate qui! Mi fio poco! Oh! Mi butto! Scendo eh! No! Ma no! No! Senti qui! No! Oh! E' finito i fatti i cazzi degli altri? Eh! Te si spendo le per fai cazzi! Federico! Adesso sto cazzo! Adesso ho fatto un letto! No! Le minacciano! Le minacciano! Allora vedrete! A vero! Problemi di outfit la domenica! C'è Chiara Carli che si è vestita da confetto! Incredibile! Chiara Carli il confetto che aspettavamo! No! Passeggio via! E' tutto aperto! Piste! Contro ogni DPCM! E' tutto aperto! Ha nevicato! Nevicando! Guardate che lavoro! Come ha nevicato! Incredibile! Che parte! Che sta nevicando! Arriva il gatto delle nevi! Lo smazzaneve! La moto delle nevi! Lo snowboardo! Si! Incredibile! Da fondo! Sta nevicando! Eccolo! Incredibile! Bei ravioli! Che spettacolo! Guardate! Irregolari! Belli! Tosti! Ripieni! Buoni! Mmm! Come si mangia! Come si mangia di qui! Pacco fantastico! Guarda che c'è! Guarda o no! La spada laser! Ssssss! Ti piatti? Cavalier Faustino! Cavalier Faustino! Cavalier Faustino! No! 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 Ma questa è la spada laser o no? Sta buona! Guarda quanto è bella la spada laser! Guarda! Ma io non ce la fai! Guarda! La spada laser! Combattiamo! Ma io non ce la fai! Guarda che spada laser! Guarda! No! No! Ma è la spada laser! Non è possibile che uno vanno a mangiare! Alla sta la rompi i coglioni! No! Oh! Il mitico rock Jerome delle Plaissons! Ho fatto un riposire adesso! Ah! Ma l'abbiamo fatto il mio nonnino! No! Canta! Ale! Oh! Vai! Alla vai! Ale! Vai! Tutti insieme! Canta anche tu! Oh! Oh! non lo so non lo so fermate Dio no 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 la mitica felpa coccodrillo 00 io sono lo 00 e voi avrete un numero speciale solo per voi fate swipe up come lo fa swipe up tutto il merchandising anzi oggi alle 21.45 faremo una diretta i primi tre che acquistano dal merchandising verranno chiamati in diretta me li appunto quindi swipe basta dormi il pupo va sul letto no dormimo non sul lettino no o no sto sempre guardando non direi cosa che dopo la gente è vera ebbè in antifono te denuncia te denuncia la Tursula si che ti fanno? fa una sega ma vuoi comprare quel matarazzo di lì? matarazzo ma che c'è fai? ci dormo che c'è fai? ma con la rete è tutto e dopo che c'è fai? che c'è la rete che si alza da piede da capo vedi quanto è bella guarda e poi comprare anche tu e che c'è fai? si scopri nooo non si dice e non si dice ma si fa ma si impara come rire il coccodrillo felice la fondiamo così vai porchetta siamo umbrici 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 è sempre un po' di coglione un po' di porchetta un po' di coglione c'è la bocca un po' piena eh nonna maria vedeva l'ora è vero o no? si ne vedeva nessuno ha fatto la magnata è uno donno ma se ognuno se facesse i cazze sue come io non puoi venire non sarebbe meglio eh già no no non mi insegnava 594.000 richieste 70 euro oh smettala eh non cominciare e metto di piede guarda che metto di piede andrella non mi ha tolto come te sì ma è tutto non ha stato non fa legname di qui ma era che ne ne ha rubato luce però no però ne è tutto non è stato ma è stato che ha messo di piedi di che colore era la cavalla smettala e te lo cazzotto non te l'avevo dove ti vuoi ma 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 tu non ne hai capito eh sì ma sei dunque eh chiara carli lo spettinamento scettinamento vai 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 l'ultimo l'ultimo camera eccolo guarda come rita adesso mi sono spuntato dalla finestra vai guarda come rita guarda che ora non apriamo anche quella che sorpresa che ti ho fatto no no apriamo i volti si era chiuso in camera aveva messo la televisione qua ma io sono riuscito ad entrare con i gruppi protagonisti del primo giro chiuso eccolo è tornato incredibile ma l'attacca dai la termocoperta ma com'hai hai detto il mio leone non mi fa niente l'accento quando mi pare ma spegnila l'arretta l'accento quando mi pare il veicolo D passa prima degli altri mezzi sgassando contemporaneamente all'azione è vero o falso è falso perché perché ha dato la precedenza a destra ma da chi eh da chi la darà scusa da Giovanna che è morta no sta lì a dare la precedenza ma che stai a dire da chi tocca darà la precedenza guardaci è da quella a destra ma a destra di che alla destra sua alla destra della macchina solo a destra della macchina che passava prima perché lui passa dopo quando passa quando è passata con l'altra in questa strada ci sono oh ma però cioè noi stiamo a far scuola guida per favore in questa strada ci sono le macchine a retromarcia ambientata vero o falso è vero o falso oh ma che che la macchina questa passa contemporaneamente al motociclo pinato eccolo beh guardala se la guardi non guardo niente che non ce lo vedo è vero o no oh guardaci o no la ma aiutalo anche tu la Nicola guardaci la Nicola aiutalo per bene guarda non te lo ho da domandare domanda metà a lui ma dimmi se sta macchina passa ma vuoi che affanculo oh pre è l'organo che assicura la proporzione agli autoveivoli è possibile ritrovarlo a doppia cassetta la doppia cassetta è possibile che c'è l'albero matore a doppia cassetta sì è normale ci sono i motori a quattro cilindri o a sei cilindri i motori a sei cilindri sono i due a pochi ah quindi la doppia cassetta beh andai a posto a tripla cassetta aspetta avrebbero un motore del motore a quattro cilindri ma a doppia cassetta ma che c'è tra le cassette e le cassette non te la testa ce le ho poi l'albero motore qual è l'albero motore può essere ottavale che vorremmo di ottavale se l'albero motore è fatto a ottavo non è possibile no come è fatto l'albero motore l'albero motore può essere il motore a quattro cilindri a due cilindri sempre quella o sei cilindri o otto cilindri c'è l'albero romeo che c'è il motore a dodici cilindri ci vuole l'albero motore per dodici cilindri mi piace posso mettere da quattro eh o da otto lo stantuffo sì lo stantuffo lo stantuffo ma ecco è quattro lo stantuffo la coppa dell'olio a ottobre si fa su un po' le bruschette con l'olio con la coppa la coppa dell'olio è vero valvola aspirazione aperta di qui aspira questa comprime che il pistone va su comprime ma arriva fino a sopra arriva il pistone arriverà fino alla cilindro dopo ma anche sopra il disegno sì anche fuori dal cilindro ma ci arriva o no ma è stato scemo questa fase è detta ostentrazione ecco lo è compressione no questa è ostentrazione compressione scoppio e scarico scarica ma lo scarico può essere a doppio rimocchio doppio articolato senza rinno allora i fumi dello scarico possono essere avanti avanti eh non desiderare la donna dare sì certo è studiato la donna non nominare il nome di dio in base eh la donna dare dai quali hanno le quattro fasi aspira 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 compressione scoppio e scarico quattro sono le fasi del motore aspira aspira scarico com'è niente com'è aspira compressione scoppio e scarico dire fare lettere testamento sì quali hanno queste quattro fasi aspira aspira azione combustione espulsione espulsione aspira espulsione all'esterno dei gas combustibili durante la corsa di risalita dello soltufo ebbene indica un aumento da una o due corsie questo beh vero il pannello integrativo raffigurato posto sotto un segnale di pericolo la distanza tra il segnale e il punto di inizio del pericolo questo quello sopra ma questo che è questo è il divieto di suoni acustici questo è il che non si tromba mai tromba mai quello è il divieto di suoni acustici ma a montagna o al mare dove trovo quel segnale non so sono e che si fa te la piso quello quando allora guardale i ciclomotori hanno un limite di velocità molto polfer eh oh quant'è ciclomotori hanno una 60 più che buona no è 40 cicli ma ascolta ma io non ascolto segnale purpurri di semafori o no guardalo ma io guarda lì guarda guarda il purpurri di semafori eh puntare l'immondizia mamma mia ma quanto si bello wow ma quanto è bello il babbo drillo questo è stupendo tra poco la diretta ragazzi quella che mi rompe le scatole che vuole ricomprare la televisione io non ci capisco niente delle televisioni quindi adesso ti prendi il crostino eh adesso scrivete a lei per una televisione oh storie precedenti c'è stato il dormimo più bello della storia stavo proprio sognando mi ho fatto prendere in colpo quell'amico mio fashion block eh ma sarà ci sarà una vendetta vai rock vai 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 rock vai 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 non avevo mai visto comorra, iniziamo oggi è ora, è ora, è ora Nick Carter Backstreet Boys Eccolo qua Di una canzone Backstreet Boys